Sarà un agosto di grandi eventi a Francavilla al mare, di grandi artisti, di grandi cantanti che si esibiranno in città se sono. Sì, sarà sicuramente uno splendido e scoppiettante agosto, seppure nel rispetto delle norme Covid che dobbiamo, siamo ancora in piena pandemia, dobbiamo stare attenti a non far ripartire la quarta ondata ma abbiamo organizzato una splendida estate, partiamo già il 2 agosto con uno spettacolo comico e poi proseguiamo con il Blue Bar Summer Festival. Tutto ciò quest'anno verrà svolto nell'Arena del Mare, nel nuovo porto turistico di Francavilla proprio per dargli visibilità, per far vedere questa nuova zona che sarà il Polo Attrattivo di Francavilla. Sarà un'estate appunto di spettacoli teatrali, spettacoli comici e musica di altissimo livello. Il Blue Bar Summer Festival verrà presentato oggi dagli organizzatori ma poi partiremo con Gigi D'Alessio, Carl Brave, Willy Pejota, Antonello Venditti, insomma avremo veramente un'estate con spettacoli per tutti, ognuno potrà scegliere ciò che gradisce e c'è stato già un grande riscontro è quasi tutto sold out perché la gente ha voglia di uscire, di partecipare, insomma di tornare a vivere veramente. Ancora un altro anno con il Blue Bar Francavilla ma soprattutto un'altra grande edizione con grandissimi nomi della musica. Ci proviamo, noi ogni anno ci proviamo, questa è la diciannovesima edizione, dal 4 all'8 agosto, cinque serate fantastiche, ogni sera sarà un doppio concerto, ognuno diverso, cioè ci saranno cinque storie diverse da raccontare e vedrete ci si emozionerà ancora una volta. Il finale sarà con Samuele Bersani che sarà un concerto fantastico, lo dico perché veramente ha preso quest'anno il disco d'oro, ha vinto al Club Tenco, insomma siamo su altissimi livelli. Per la prima volta verrà Tullio De Piscopo che non è mai venuto a Francavilla, festeggeremo gli Osanna, i 50 anni di carriera degli Osanna, ci sarà Gio Bastianich, l'uomo più cattivo di tutti i social, di tutte le cose, invece racconterà qui una storia musicale, dolce nera, solo, pianoforte, insomma ci saranno veramente tante tante cose. Come state con i fiocchi per Francavilla? Con la musica, no? Con i fiocchi. Una musica con i fiocchi. Grazie a voi.